Maria De Filippi sgrida Laura Pausini.Senza ombra di dubbio Maria De Filippi e Laura Pausini sono due amiche e hanno un rapporto molto confidenziale Una dimostrazione l'abbiamo avuta ieri sera durante la messa in onda della prima puntata del serale di Amici 18 Appena la cantante è entrata in studio per giudicare due allievi, si è diretta immediatamente nella direzione della pop star mondiale Ricky Martin Ricordiamo che i due hanno lavorato insieme per diverso tempo. Ma la reazione di Laura è piaciuta poco alla padrona di casa che in modo ironico l'ha presa per cafona La De Filippi fa notare l'errore che Laura Pausini ha commesso con Ricky Martin.Dopo aver fatto notare a Laura Pausini dell'errore commesso in studio, Maria De Filippi ha detto questo alla cantante Ti sei fiondata su di lui, ecco perché ti ho chiamata cafona. So che ti sei comportata molto male con lui La moglie di Maurizio Costanzo si è riferita ad un particolare episodio avvenuto durante la Vox Mexico, ovvero l'edizione messicana di The Voice, dove entrambi sono stati giurati In quell'occasione la Pausini ha scolacciato la pop star dopo un commento che non le era piaciuto affatto e ha commentato tutto in questa maniera Quella era una scusa per toccare il fondoschiena di Ricky Martin.Esclamativo.A di inizio puntata di Amici 18 Loredana Bertè, un unico giudice di quest'anno, ha scatenato una polemica in studio, ma anche sul web Il motivo? I suoi giudizi suo ragazzi sono stati molto forti, mentre Laura Pausini e Biagio Antonacci sono stati molto più teneri Per me è difficile giudicare un ballerino. Ho fatto una scelta di pelle. Noi donne siamo molto più decise sulle scelte Entrambe le canzoni sono state molto forti. Io non ho dubbi. Il nostro voto va alla squadra blu Ho detto la cantante Emiliana